L'Alpen Classica Festival, qui con me i tre organizzatori Massimiliano, Damiano e Lorenzo i quali oggi hanno presentato ai vari partner e alla stampa la manifestazione tra i giovani che oggi si mettono in gioco. Massimiliano, di che cosa si tratta e che cosa ci attende? Allora, il festival è un festival euro-regionale di musica classica e la prima edizione avrà luogo in Val di Sole. Cosa vuol dire euro-regionale? Allora, l'idea principale di questo festival è di unire le tre regioni, Trentino, Alto Adige e Tirolo in un progetto triennale dove ogni anno partendo da quest'anno ci sarà una stagione quindi come ho detto si partirà in Val di Sole quest'anno, il prossimo anno in Alto Adige e fra due anni in Tirolo.